Sull'inefficacia e incapacità della città metropolitana di Reggio Calabria si è detto e scritto già tanto, in particolare nel non riuscire ad agire per risolvere i problemi a cominciare da quello della viabilità e il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari su queste carenze è stato un indomito fustigatore, un sindaco che certo non li manda a dire strade immerse da rifiuti di competenza provinciale ora della città metropolitana e manutenzione delle arterie sono i problemi principali su cui il primo cittadino punta il La SP32 ne è un esempio lampante, conosciuta come strada del Ponte Vecchio che unisce San Martino di Taurianova a Palmi, franata da più di tre anni, mai riparata, chiusa formalmente al traffico e il monumento più eclatante dell'inconsistenza del nuovo ente, un fermo immagine all'inerzia, a guardare come stanno andando le cose sembrerebbe un vero fallimento l'istituzione di questo nuovo ente riconosciuto dalla Costituzione italiana A questo si aggiungono i rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali della Piana e non solo, cumuli di immondizia che denotano da un lato l'inciviltà di pochi che lasciano senza scrupoli la qualunque lungo alcune arterie stradali, ma dall'altro esalta l'indolenza a svolgere l'ordinaria amministrazione da parte del settore che fa riferimento alla città metropolitana In questo caso la viabilità, ed ecco arrivare la strigliata di uno dei sindaci della tanto decantata città metropolitana di Reggio Calabria, così tanto attesa per quanto insolvente si sta dimostrando Ma intanto chiedo alla città metropolitana che si svegliano perché lasciare le strade in uno stato di abbandono è un bruttissimo biglietto da visita anche per il nostro turismo ma anche per i nostri emigrati che tornano e vedono questo territorio sempre più abbandonato Io spero che loro si mettano in testa che comunque ci sono delle cose urgenti, improrogabili, impellenti che bisogna fare da subito Qui non si tratta di avere risorse o di avere non so quali finanziamenti Qui si tratta di poche cose ma di buonsenso, cioè pulire le strade, cioè non richiede grandi investimenti Bastano poche migliaia di euro e le strade ritornano ad avere il loro decoro necessario per accogliere anche le persone E allora perché la città metropolitana continua a lasciare queste strade in uno stato di totale abbandono? Questo è brutto per noi cittadini di questo areale, è brutto per noi calabresi perché come pensiamo di fare turismo, di rilanciare l'immagine della nostra terra Se qui le cose essenziali non vengono fatte e allora si devono svegliare gli addetti alla viabilità Devono alzare il sederino dalle proprie sedie, fare il giro delle nostre strade Andare a vedere laddove è necessario fare degli interventi di pulizia, di ripristino, di manutenzione, di decoro Sono cose che non le possono più rimandare, allora che si svegliano una volta per tutte perché siamo stanchi